Il professor Crisci dell'Università della Calabria, insomma una struttura importante per la cultura in Calabria, struttura nuova, c'è fame di cultura? C'è fame e c'è bisogno di cultura, io ho partecipato a molti convegni e a diversi temi e alla fine si finisce sempre che è un problema culturale, la lotta alle mafie è un problema culturale, la difesa del territorio è un problema culturale, cercare il lavoro e fare in modo che i nostri giovani non partano più dalla regione è un problema culturale, è tutto un problema culturale. Più si cresce culturalmente e si capisce in quale contesto si vive, più le stanze aumentano e aumentano anche le opportunità, quindi tutto quello che nasce nell'ambito della cultura in Calabria, soprattutto nelle aree più interne, che sono quelle generalmente sempre più dimenticate, sono un fatto positivo, per questo mi sembrava giusto partecipare oggi qui e rappresentare l'Unical, che in fondo è un'altra struttura culturale del territorio. Lei di strutture ne ha viste tante, come mettiamo da 1 a 10 questa struttura proprio all'interno della regione, un paese come Superia Mannello, un paese cresciuto possiamo dire? No, io sono rimasto, mi hanno invitato, l'ho già visitata e credo è una cosa incredibile, veramente è andata bene e progettata anche bene poi, cioè integrata, dove si è sposata la processione moderna di fare culture, cioè quella di fare spazi modulari, che può essere utilizzata per molte cose, dal lavoro agli spin off, per me è un complimento, io credo che merita al massimo, io spero che verrà utilizzata, come struttura veramente si presenta benissimo e spero che verrà utilizzata veramente al massimo, perché le potenzialità ci sono tutte e faccio i complimenti a chi l'ha concepita in questo modo. Grazie a tutti.